Una presentazione cinare. Cinare fresco, naturale, leggero. Cinare, sempre cinare. Come va, Alexa? La donna ora è proprietà del governo. Nata in Yugoslavia. Specializzata in spionaggio, controspionaggio. Esperta in combattimenti corpo a corpo. Armi, esplosivi. Io non so nemmeno chi sei. Il resto del mondo sarà costretto a prendermi sul serio. Comincia a prepararti. Stai per entrare in azione. Lorenzo Lamas. Nome in codice Alexa. Martedì alle 20.30. Su Italia 1.